ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario sedative informazioni commerciali titolare sc farma di davide simbari srl concessionario sc farma di davide simbari srl confezioni sedative venti compresse sedative siringa 15 ml formulazione valeriana passiflora biancospino e triptofano precursore della serotonina indicazioni a un mangime complementare indicato in tutti gli animali che mostrino stati di ansia aggressività ipersessualità ottimo anche per i viaggi posologia 2,5 g o 1 compressa ogni 20 kg prima del viaggio a stomaco vuoto raddoppiare la dose per altre necessità tipo aggressività o stress fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato